Campionato concluso nel girone di prima categoria mentre seguiamo nelle immagini il riscaldamento antecedente, il match tra la Bolanese e il Ricole Rondini anche se ci sarà sontuosa appendice in quanto è previsto lo spareggio per vedere chi salirà in promozione tra l'intercomunale Beverino e lo Sporting Aurora di Sestri Levante terminate a pari punti. Per quanto riguarda il match del Bertolotti di Bolano è stato un vero e proprio festival del gol con una Bolanese che ha chiuso in bellezza imponendosi per 4-2 ad un Ricole Rondini, terza forza del girone. E' stata una giornata conclusiva, la 26esima in prima categoria girone, ricca a proposito di gol, infatti prendendo ad esempio le due squadre finite prime, addirittura per 8-2 l'intercomunale Beverino è andata ad imporsi in casa del Borgo Foce Magra e per 4-0 l'altra cocappolista, lo Sporting Aurora in casa ha travolto la Castelnovese. Mancano ancora due giornate al termine invece in seconda categoria e al proposito con le riprese passiamo alla vittoria per 3-2 alla pieve del Mamas Giovani sul nave. Nel girone F si riprende il comando Lamegliese che si impone nel big match della giornata alla Ferrara imponendosi per 1-0 nel posticipo della domenica sera sul calcio popolare Spezia, terza forza del girone e scavalcando così al comando il brugnato che era a riposo. Infine è a tale incontro, passiamo con le immagini, vittoria all'inglese nonché brillante del Luni che si impone infatti con un classico 2-0 a Romito sul Romito, Magra, Hauser, Reti di Sacchi e di Mammarella per concludere San Lazzaro Lunense e Ceparana 1-3 l'altra compagine a riposo era la squadra B della Bolanese.